Speriamo che tutto vada nel migliore dei modi, noi sicuramente ci stiamo preparando psicologicamente, è solo la seconda trasferta che facciamo quest'anno, la prima non è andata nel migliore dei modi, quindi speriamo comunque di aver imparato qualcosa da quella determinata situazione e di riuscire ad arrivare a Messina, che comunque è un campo molto difficile dove affrontare una partita, nel miglior modo possibile, giocare serenamente, divertirci e riuscire a portare a casa il risultato sperato. Io penso che la concentrazione sia la cosa più importante da un punto di vista pallavolistico, perché è uno sport dove ci sono tantissimi cambi di ritmi, tantissimi cambi anche di sponde a livello di punteggio, quindi appena tu ti distrai un attimo può ribaltare totalmente la situazione, quindi magari sei 2-0 e arrivi a fare un 3-2 solo per un calo di concentrazione che può durare anche solo due punti. Quindi penso che sì, ci sia bisogno di più concentrazione, ma penso che quella sia una cosa che vada allenata in primis durante l'allenamento. So che il ruolo anche più importante, perché sono io a gestire la tattica, a gestire chi deve attaccare, a capire chi è in giornata e chi no, e è un modo per me per spronarmi a fare sempre meglio, perché so che senza il palleggiatore la squadra non gira, quindi c'è bisogno che io sia la prima ad avere la massima della concentrazione sempre durante tutta la partita. Si va a giocare a Messina con tanti buoni propositi, veniamo da una vittoria importante in casa contro Telesino, adesso andiamo a Santa Teresa, un roster di tutto rispetto, andremo a Guerriti perché siamo alla ricerca di punti, vorremmo subito provare a risalire la classifica, secondo me è il momento di provarci. Santa Teresa è un roster molto competitivo, quindi non sarà una partita per niente facile, però il mister ha lavorato tanto durante la settimana e siamo ottimisti per fare una buona prestazione.